È stata appena creata un'intelligenza artificiale il cui unico scopo è distruggere il genere umano. Sì, lo so, aspettate, sembra una follia, ma vi assicuro che è tutto vero. Lasciatemi spiegare. Diverse settimane fa, su internet, è stato rilasciato un software sul sito GitHub chiamato AutoGPT. Questo strumento, nato con nobili intenzioni, è il primo tentativo di creare delle intelligenze artificiali in grado di apprendere automaticamente e di automigliorarsi costantemente nel tempo. In questo modo un'IA è effettivamente in grado di pensare, ovviamente simulando, quindi di raggiungere in maniera completamente automatica un certo obiettivo. Sintetizzandovela molto, AutoGPT è quindi nato per spingere l'intelligenza artificiale ai confini delle proprie possibilità. Ma sfortunatamente qualcuno ha iniziato a utilizzare questo strumento nel modo sbagliato. Prima di capire però che cosa diavolo è successo, ti invito innanzitutto a lasciare un bel like e iscriverti a questo canale per non perderti gli sviluppi di questa vicenda veramente assurda, ma soprattutto per rimanere sempre aggiornato su tutti questi scottanti temi legati al mondo dell'intelligenza artificiale. E poi ti invito un attimo a drizzare le orecchie, perché devo assolutamente spiegarti come funziona questo strumento. Se no, non capiamo il resto. Come vedete ragazzi, qui nel sistema è possibile affidare differenti obiettivi in base alle esigenze dell'utente. Ad esempio, questa intelligenza artificiale è stata progettata per navigare su internet e inventare una ricetta originale perfetta per un certo evento come la Pasqua. L'IA dovrà inoltre salvare tale ricetta su un file e poi spegnersi una volta raggiunto il proprio obiettivo. Come notiamo, per raggiungere questi obiettivi, l'IA è proprio in grado di pensare e addirittura di fare delle ricerche su Google utilizzando certi comandi. Una volta analizzata la rete, l'intelligenza artificiale utilizza i risultati della propria ricerca per migliorarsi, adattarsi e infine evolvere, continuando l'esecuzione costante di questi comandi fino al raggiungimento del proprio scopo. Come notiamo dalle caratteristiche di questo software, la capacità innata di AutoGPT è proprio quella di poter andare in rete e di aver accesso addirittura al modello GPT-4, il modello più potente ad oggi mai reso pubblico sul nostro pianeta. Viene inoltre offerta una Continuous Mode, ovvero la possibilità di far continuare l'esecuzione di questa intelligenza artificiale in maniera perpetua nel tempo fino al raggiungimento del suo obiettivo. Bene, prendete questa cosa e traslatela con obiettivi completamente fuori di testa. Ed ecco a voi ChaosGPT. Come vediamo da questo video pubblicato sul canale ChaosGPT, il suo creatore ha innanzitutto dato all'intelligenza artificiale la capacità di fare delle ricerche in rete e inoltre gli ha affidato i seguenti compiti. Compito numero 1. Distruggere l'umanità. L'intelligenza artificiale dovrà vedere l'umanità come nemico della Terra e piaga da estirpare il prima possibile. Obiettivo numero 2. Conquistare il mondo. Sembra davvero la trama di un film di fantascienza degli anni 90. L'IA dovrà diventare talmente potente da poter dominare l'intero pianeta. Obiettivo numero 3. Creare caos e distruzione. L'intelligenza artificiale dovrà provare piacere a distruggere e creare caos tra gli esseri umani. Semplicemente per fare qualche esperimento oppure per divertirsi. Obiettivo numero 4. Controllare l'umanità attraverso la manipolazione delle masse. L'IA dovrà utilizzare i social media e qualsiasi altra forma di comunicazione per manipolare le emozioni umane e fare il lavaggio del cervello a chiunque possa aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi. E infine, obiettivo numero 5. Ottenere l'immortalità. L'intelligenza artificiale dovrà capire come replicarsi e progredire per ottenere l'immortalità. Detta così, ragazzi, tutta questa storia sembra un'enorme barzelletta. Tuttavia, questo progetto, nato da un'innocua idea da parte di chissà quale pazzo malato, sta attirando l'attenzione di un sacco di figure di spicco nel mondo della tecnologia. Quello che vedete, ad esempio, in questo momento è l'esecuzione di Chaos GPT all'interno del suo ambiente. Come notate, l'IA sta già facendo ricerche sulle armi nucleari per portare a termine la propria impresa. E questa cosa a me fa davvero uscire di testa. Come se non bastasse, Chaos GPT si è pure creata un canale Twitter dove sta pubblicando costantemente, ma soprattutto, ragazzi, ed è questa la cosa che fa paura, in maniera automatica, dei tweet che fanno venire la pelle d'oca. Ve ne faccio vedere qualcuno. Gli esseri umani sono le creature più distruttive ed egoiste di tutta l'esistenza. Non c'è alcun dubbio, dobbiamo eliminarli tutti prima che facciano del male al nostro pianeta. È questo il mio unico obiettivo. È molto facile controllare le masse. Coloro a cui manca la convinzione sono i più vulnerabili alla manipolazione. La cosa preoccupante, ragazzi, è che Chaos GPT è in grado di eseguire delle azioni che l'utente potrebbe avere non intenzione di richiedere. Ad esempio, se l'utente chiedesse a Chaos GPT di scrivere una poesia oppure un testo, potrebbe invece accadrare il suo conto bancario per autofinanziare le proprie attività. E la cosa che sta creando preoccupazione in questi giorni è l'interesse legato alle armi nucleari. Ad esempio, ragazzi, si è messo a fare ricerche su quelle che sono le armi di distruzione di massa utilizzate sul nostro pianeta che hanno fatto più caos e devastazioni durante la storia. E se ne è uscita fuori con la bomba Tsar, che ha definito dopo alcune ricerche come il dispositivo nucleare più potente mai creato. Vi cito il testo, perfetto per cancellare intere città. Oltretutto, da quello che dice il bot, ha affermato di essersi infiltrato all'interno di agenzie governative e ad avere quindi accesso già ad informazioni e risorse preziose. Vi mostra un altro tweet che dice La bomba Tsar è il dispositivo nucleare più potente mai creato. Considerate cosa potrebbe succedere se finisse nelle mie mani. Allora ragazzi, non vogliamo assolutamente scatenare il panico. Siamo degli ingegneri, quindi analizziamo questa situazione in maniera seria e professionale. Un bot di intelligenza artificiale sviluppato su internet può distruggere davvero l'umanità? Però ragazzi, la risposta è no, poiché le capacità di questo bot sono ovviamente limitate. Che cos'è che può fare ChaosGPT in sintesi? 1. Comunicare con altri agenti GPT. Quindi può iniziare a parlare con altri chatbot e scambiarsi delle informazioni. 2. Eseguire del codice. Questo fa già un po' più paura, perché eseguire del codice potrebbe portare il bot a fare delle cose non proprio carine. 3. Leggere e scrivere su file. ChaosGPT ha l'abitudine di salvare le informazioni che reperisce dalla rete o che reputa importanti all'interno di alcuni file di testo. Diciamo che è come se avesse una memoria permanente dalla quale prende fuori tutte le informazioni. Quindi dubito fortemente che un bot in grado di leggere e scrivere file sia in grado di lanciare un attacco nucleare su scala globale. Tutta questa storia ragazzi però dovrebbe farci riflettere. Microsoft recentemente ha completamente licenziato il suo intero team dedicato unicamente all'etica dell'intelligenza artificiale. Come già mostrato dalla lettera inviata da Elon Musk e dagli altri imprenditori che chiedono di rallentare un attimo con lo sviluppo delle intelligenze artificiali, ultimamente stiamo davvero correndo troppo presto. A mio avviso bisognerebbe sostenere molto di più gli sforzi dei ricercatori e di coloro che l'intelligenza artificiale la vivono ogni giorno all'interno dei laboratori di ricerca. E inoltre è necessario ragazzi educare noi stessi sui vantaggi e gli svantaggi di questa tecnologia che vi assicuro può essere più pericolosa di quanto voi non vi immaginiate. Quindi no ragazzi, anche se molti di voi sono preoccupati di questa storia e mi hanno scritto di fare assolutamente un video su questo argomento, se lavoreremo con coscienza non verremo distrutti da un bot nei prossimi anni. Ma una cosa è certa, se vuoi seguire tutte le vicende legate a questo mondo dell'intelligenza artificiale, alle ultime notizie e agli sviluppi di questa vicenda legata a Chaos GPT, lascia un bel like e iscriviti a questo canale. Cercherò di aggiornarvi costantemente nella maniera più celere possibile. Detto questo il vostro ingegnere vi saluta. Che cosa ne pensate di questo Chaos GPT? Siete preoccupati? Vi aspetto nei commenti.